Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sinceramente penso che quella che sto per andare a mostrarvi sia veramente la principale problematica all'interno della community pokemon nonché ciò che mi fa più schifo dell'utenza che circola attorno a questo brand Premesso che la community pokemon secondo me ha tanti difetti che però sono più o meno gli stessi delle altre community ma c'è una cosa in particolare che secondo me all'interno della community pokemon è veramente troppo troppo incessante e per la quale provo sinceramente molto ribrezzo qualche giorno fa sul canale italiano ufficiale è uscito un gioco che può essere definito una sorta di crossover tra un gioco simile a professor Layton e uno simile a pokemon si tratta ragazzi di detective pikachu vi dico già che a me questo gioco dal trailer rispira un pochino però ovviamente io non posso andare a commentare riguardo al gioco dicendo è bellissimo oppure fa schifo perché giustamente da un trailer puoi dire veramente poco soprattutto da un trailer che è proprio la presentazione iniziale del gioco evidentemente però non la pensano tutti così perché sotto al video dedicato a detective pikachu alcune persone hanno pensato di sparare sentenze a minchia riguardo a detective pikachu per l'appunto senza aver nemmeno visto più di due minuti di gameplay e senza aver visto nemmeno una dinamica sul come si svilupperà il gioco ora nel video di oggi volevo andare a fare delle reazioni ed alcuni commenti che ho trovato per l'appunto sotto quel video che ho ritenuto personalmente imbarazzanti e che penso che se dovessimo essere conosciuti per certe persone all'interno del panorama delle community pokemon di tutto il mondo in italia ci vergogneremmo molto perché ragazzi la problematica di cui sto andando a parlarvi è una problematica che già su pokemon ultra sole e pokemon ultra luna si era vista moltissimi tra l'altro non solo utenti magari bambini o robe del genere ma anche persone adulte anche content creator anche influencer hanno deciso di etichettare subito pokemon ultra sole e pokemon ultra luna come lo schifo come il dlc di merda come qualsiasi cosa che poi si sia rivelato un dlc di merda è un altro discorso perché da un trailer tu non puoi uscirtene con una roba del genere non so se mi spiego ed è una cosa che succede quasi solo nella community di pokemon ma andiamo a vedere un po' di commenti e commentiamoli per l'appunto perché ci sono delle cose veramente aberranti ovviamente censurerò i nomi delle persone di cui andrò a parlare perché non sia mai che poi mi becchi messaggi su instagram in cui mi dicono di levare la roba se sia chiaro cioè come fa una persona dall'alto di un trailer di un minuto e trenta nemmeno in cui si vedono letteralmente forse dieci secondi di gameplay e varie cazzin del gioco a dire che il gioco è un piattume assurdo come fa una persona a giudicare un gioco ma neanche dalla copertina ma proprio cazzo dalla categoria in cui è stato inserito a momenti cioè veramente io non riesco a comprendere certe reazioni io non sono andato a commentare Detective Pikachu dicendo che è un gioco della madonna che è bellissimo perché non lo so dico che mi ispira dico che sembra qualcosa di carino ci sono delle cose che potevano essere diverse ad esempio il fatto che è uscito per 3ds e non per switch oppure la grafica che secondo me è un po' arretrata rispetto ad altri giochi ma non puoi venirmi a parlare di un gioco piatto avendolo visto da un trailer è ovvio che il primo trailer se c'è qualcosa di importante non te lo mettono ma grazie alle palle cioè voglio dire il problema è che questo è il commento forse meno peggio perché poi vabbè ci sono anche vari commenti che dicono che schifo che merda però quelli non li metto perché cosa vuoi dire su certe persone andiamo ad analizzare i commenti che sono veramente ridicoli nel senso che cominciano a straparlare come se fossero cristo gandhi in india cristo gandhi è bellissima tra l'altro ma cos'è sto schifo da quando pokemon è un giallo va bene cambiare delle cose ma qui hanno fatto un gioco nuovo e per far vendere ci hanno infilato i pokemon non ha senso di esistere davvero cioè il tuo ragionamento più o meno è questo pokemon ranger è un gioco sui ranger che per essere venduto è stato inserito nell'ambito pokemon questo è il tuo ragionamento non fa una piega non è nemmeno contemplata in un altro universo l'idea che game freak abbia potuto mettersi al tavolo e dire che figata sarebbe un gioco dove c'è un detective e che figata sarebbe metterci pikachu con una voce da travione che poi questa cosa non sia una figata potrà anche essere possibile ma l'idea che il gioco sia stato concepito come uno spin off pokemon in questo momento sembra essere un altro universo sicuramente volevano fare un altro gioco tipo professor layton e per farlo vendere ci ha messo i pokemon perché professor layton non vende di suo chiaramente è un gioco di merda di game freak e quindi non ci mettiamo i pokemon se no non vende cioè il ragionamento praticamente è pokemon è pokemon e qualsiasi altra cosa sia inserita nell'ambito pokemon non è pokemon pokemon rumble si sa che chiaramente è un gioco su pupazzetti che per far vendere è stato diciamo implementato con i pokemon loro volevano fare un gioco sui pupazzetti no però siccome era un poveri questa casa videoludica sconosciuta ha contattato game freak e ha detto non è che potreste magari metterci pokemon così almeno vendiamo un po' di più cioè cioè che ragionamento è questo è il problema che ci blocca in italia no la paura dell'innovazione da quando pokemon è un giallo da oggi da oggi pokemon è un giallo ragazzi da quando la francia è una repubblica da quando hai ammazzato il re per farcela la repubblica è questo il discorso l'innovazione il cambiamento che in italia sembra visto come una bestemmia quando invece non è visto come una bestemmia in altri paesi ma è visto come qualcosa che deve succedere questo in italia succede cazzo ma sempre e non solo nella community pokemon la community pokemon è lo specchio di un pensiero nazionale che è sbagliatissimo e che purtroppo è più diffuso che in altri paesi perché da quando pokemon è un giallo fa schifo riassume l'idea generale di un'ignoranza comune che vede nel cambiamento qualcosa di schifoso c'era un tempo in cui le persone dicevano queste cose riguardo ai treni riguardo alle macchine riguardo ai computer ci sono persone che dicono ma quanto fanno schifo i giochi di adesso ma cos'è questa merda qua torniamo con i di prima e sono gli stessi giochi che tu caro mio che hai scritto questo commento stai giocando e quindi non vorrei essere cattivo però rifletti bene su questa cosa perché se abbiamo i giochi che abbiamo adesso è perché qualcuno un giorno ha deciso di cambiare il mondo e questa cosa purtroppo della community pokemon mi fa davvero innervosire il fatto che il cambiamento sia sempre qualcosa di negativo il fatto che ci siano persone che stanno a idolatrare ancora la prima gen ragazzi la prima gen cioè la prima gen poi abbiamo il classico il classico commento ragazzi per piacere gamefreak e nintendo fate uno spin off decente per piacere dopo misteri misteri dungeon basta spin off di cacca porco arceus allora a parte la forma del commento però voglio dire cioè a parte il fatto degli spin off di merda che ovviamente non è condivisibile secondo me però questi sono altri discorsi perché ci sono alcuni spin off che sono la madonna però queste ovviamente sono opinioni personali ma cioè il tuo discorso è più o meno non facciamo spin off perché fanno tutti schifo cioè gli spin off che non seguono lo schema di palestre, lega, palestre, lega, giro delle isole, lega cioè mettici pure quello fanno schifo qualcosa mi dice ragazzi che la persona che scrive questi commenti in generale non semplicemente quello del commento che è stato preso come esempio probabilmente quando è uscito Ultrasole e Ultraluna il giro delle isole l'ha visto come una merda perché ovviamente non era come il resto dei giochi pokemon e quindi non era della cosa principale perché non c'erano le palestre cioè qualsiasi gioco che non coinvolge il concetto di lega o di allenatore è una merda cioè il fatto che lo stesso utente poi vedo se riesco a trovarvi la risposta abbia detto che mystery dungeon fa schifo anzi no ha detto che tutti gli spin off fanno schifo perché ha giocato a portali sull'infinito e quindi per antonomasia tutti gli spin off fanno schifo metafora vado a mangiare la pizza mangio una pizza di merda la pizza fa schifo lineare perfetto questa è l'italia media signori non è solo la community pokemon è l'italia media il giudicare per una cosa che hai fatto tutto il resto il fare di tutta l'erba è un fascia ho visto un giovane che fumava e si drogava per strada sono tutti così ho visto un giovane che ascolta musica di merda per strada i giovani sono tutti così questo è il ragionamento e paradossalmente gli stessi giovani che hanno ricevuto questo tipo di trattamento saranno gli stessi se non cambiano le cose qui torniamo anche al discorso di prima ad avere lo stesso trattamento per gli altri questa cosa qua ragazzi è sbagliatissima e a parte per la community pokemon veramente non 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 c'ha zecca niente con la vita poi abbiamo l'arte signori l'ultimo commento che vi mostro è arte yeah nuovo gioco pokemon per niente copiato dai libri di Sherlock Sherlock Owls io questo non lo conosco e per niente violento in cui sicuramente il boss finale non sarà necroz ma no no proprio no oppure sicuramente non è poké park 3 no no proprio no non so come commentare questa cosa se non per il fatto che copiato dai libri di Sherlock Owls cioè praticamente ecco questo fai le teorie copi Sidonia fai i giochi gialli copi Sherlock Holmes il succo è questo prima parte del commento poi vabbè abbiamo ovviamente chi si lamenta del gioco violento io non ho parole veramente cioè per una volta che il gioco porta in sede le tematiche gialle comunque interessanti poi io dubito che sarà un gioco violento perché se non sbaglio nella confezione c'è scritto Peggy 3 o Peggy 7 quindi dubito fortemente che sia violento in cui sicuramente il boss finale non sarà necrozma io sta sarà necrozma non la conosco se volete mandarmi il facebook fatemelo sapere non so come interpretarla sta cosa se lui voleva un poké park 3 oppure se semplicemente è impazzito suppongo la la seconda però non lo so comunque ragazzi io spero con questo video di avervi fatto passare una sorta di messaggio un qualcosa insomma io spero che con questo video io possa aver fatto capire ad alcune persone che giudicare un gioco semplicemente perché è diverso dagli altri o semplicemente perché ho giocato uno spin off e allora tutti gli spin off fanno schifo è una cosa sbagliata una cosa che sulla community Pokémon succede davvero spessissimo e che rispecchia un pensiero che è sbagliato a livello concettuale e che è lo stesso pensiero che per anni ha bloccato il progresso ha bloccato il miglioramento della specie umana e ha bloccato tantissime cose quindi signori miei per piacere vediamo di cambiarle queste cose qua so che la mia voce è una voce che viene fuori da un coro che dice sempre la stessa cosa che probabilmente non sarà ascoltata da molti però io sto video ci tenevo a farlo perché a una certa le cose diventano pesanti e per me sinceramente è importante trasmettere anche qualche messaggio ogni tanto visto che c'è tanta gente che sui suoi video se ne esce con sono molto educativa e poi mostra le tette in ogni caso io spero con questo video di avervi anche strappato magari qualche risata in generale se vi è piaciuto il messaggio vi invito a lasciare un bel like un commento un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando passate dai social per rimanere sempre aggiornati suoi attività al di fuori del canale e prendete questo video seriamente magari se volete condividetelo con qualcuno se volete diffondere diciamo questo messaggio mi sento molto Gesù in parrocchia però questi sono altri discorsi mi raccomando premete anche la campanella e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video si spera un pochino più allegro un pochino meno incazzato grazie a tutti